Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia in studio Marco Gargini. In A1 un chilometro di coda per un veicolo in avaria tra Firenze Sud e Incisa Reggello in direzione Roma. Fino a lunedì chiuso per lavori il tratto tra il bivio con la variante di Valico e Aglio in direzione Bologna. Sul raccordo Siena-Bettolle incidente nei pressi dello svincolo di Colonna del Grillo in direzione Bettolle. Fase finale per i lavori sulla strada regionale 445 in località Coreglia in Garfagnana. Dal lunedì per 15 giorni la strada provinciale 57 sarà chiusa al transito per consentire di collegare il nuovo tratto stradale realizzato alla viabilità esistente. A Firenze terza giornata di Firenze Rocks con il concerto degli Iron Maiden. Trambia attiva fino alle 2.30. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!